si concentrano sui grandi evasori, correttissimo, però la somma di tutti gli altri, io mi chiedo dai dati pubblici, sono noti insomma, non nelle statistiche del MEF, è possibile che i tassisti da Milano a Napoli dichiarino un reddito imponibile annuo di 15 mila euro piuttosto che i proprietari di ristoranti fra i 15 e i 18 mila euro, cioè non sono cifre reali queste. Ora, insomma, la somma di tutto questo alla fine fa un sacco di soldi. Fa un sacco di soldi, fa un sacco di soldi anche con tanti.